Nella vita, certi ricordi non ci abbandonano mai. Mi piace. Mi piace da morire. Così come sei. Ma a volte, quei ricordi diventano... Bridget! Tutto quello che ci resta. Ah, signora D'Arsy. Signor Wallaker. Per chi tu non ha ancora il pigiama? Bridget, sei una vedova con due splendidi figli. Ti consiglio di indossare la tua maschera per l'ossigeno prima. Devi fare sesso. Charles ha ragione. Oh mio Dio! Sono passati quattro anni. Sei diventata una suora. Una suora molto sporcaccione. Ti ho messa su Tinder. Cos'è Tinder? Mamma! Mi boll'è bloccata sull'albero! Moriremo tutti! Va tutto bene, signora D'Arsy? Oh mio Dio! Salve! Sotto quest'albero crescono uomini. Ciao! Puoi chiamarmi Rockstar? Bridget Jones. Ma puoi chiamarla Mammina? Lui è il tipo dell'albero. Se non te lo fai tu, me lo faccio io. E quanti anni hai tu? 28. No, scherzavo. 29. Stiamo per intraprendere un viaggio epico. Pronta? Super pronta! Ogni tanto ti manca, papà? Mi manca in ogni momento. Riesci a sopravvivere? Credo di sì. Però non basta sopravvivere, devi vivere. L'ha detto il Dalai Lama? No, eri stais, credo. Signor Wallaker. Questa sì che è una vera rinascita. Hai fatto sesso. Hai fatto sesso? Hai fatto sesso stanotte. Sì, l'ho fatto. Ed è stata una notte di totale, formidabile sesso. Ed è stato... Fazzesco! Bridget Jones. È ora di vivere. Sio Daniel! Piccolo Darcy, che si dice? E le signore con quelle enormi... Teste? Beh, non sono potute venire. Si stanno lavando. Tutte e tre? Sì, loro si lavano a vicenda. Love you, is that okay?